Il gran gol è un caso, una fortuna, anche in relazione a quello che avevi fatto una volta precedente sull'altra volta? Sì, quell'altro forse era ancora più difficile perché il lancio veniva da 50 metri, penso che ero al centrocampo, penso che tutte e due gole sono stato più fortuna, perché oggi ho visto scendere il pallone e non ci ho pensato per niente, ho tirato e è andato a bere. Quindi quello che ha detto Piero Baci, una vittoria a frutto di due due menore da parte di due anni, poi di due grazie non manca sempre. Sì, ma il mister all'inizio anno mi ha detto che non vuol dire se uno è giovane e non ha qualità, il giovane forse ha meno esperienza rispetto a un'altra, a nove diciamo. Questa partita è stata risolta da me e da Piero Andrei, che ormai siamo dai giovanissimi, penso anzi, anche prima, dai Pulcini fino ad adesso, siamo arrivati in prima squadra insieme, ho fatto tutte le trafile insieme e penso un orgoglio sia per me che per lui, riuscire a far ottenere la salvezza alla Chiesina diciamo.